E fu così che un pomeriggio di fine estate del 1995, verso le 6 del pomeriggio, l'autore si recò alla sede della ditta di lattoneria, dove sostenne con successo un colloquio di lavoro che si rivelò essere senza ombra di dubbio il più conciso, essenziale e veloce dei tanti che l'avevano preceduto e di tutti quelli che l'avrebbero seguito. Il colloquio. Era un capannone piccolo, isolato, ai margini del Paese, in piena zona agricola, che malgrado avessi seguito le indicazioni ricevute per telefono, penai un po' a trovare. Un'altra di quelle costruzioni, troppe, per l'edificazione delle quali ci si chiede come sia stato possibile che un'amministrazione abbia concesso la licenza edilizia. Sul davanti una grande corte in cemento. Poggiate a terra sulla sinistra entrando una serie di grondaie pluviali e converse in rame, acciaio e lamiera verniciata, pronte per essere poste in opera. Parcheggiai la moto dal lato opposto e mi diedi dello stupido. Opere di lattoneria. Era una voce che ovviamente ricorreva in ogni capitolato edilizio e non erano pochi che mi erano capitati tra le mani. Eppure, mi dissi ridendo di me stesso, ho avuto bisogno di consultare il vocabolario e siccome il vocabolario dava come significato solo quello di riparatore di oggetti in latta, già mi ero visto andare in giro con un motocarro gridando in un megafono ad aggiustare pentole, mestoli, padelle, a domicilio. Un mestiere ancora vivo durante la mia infanzia ma di cui avevo perso le tracce. E prima di leggere quell'annuncio e di conseguenza consultare il vocabolario credevo istinto. Che così fosse o meno evidentemente non era di questo che si trattava e stagnaio, stagnino non erano sinonimo di lattoniere. Dovrò decidermi a cambiare vocabolario, pensai dirigendomi verso l'ingresso del capannone. Mi venne incontro raggiungendomi a mezza via un uomo di 45, alto, biondo, in bermuda e scarpe da ginnastica, fisico atletico, pelle bruciata dal sole. Brevi convenevoli. Sei tu? Sì. Sono io, eccetera. Stretta di mano. Aperta parentesi. Se mai vi trovaste a dare la mano un lattoniere fate molta attenzione, perché tra tutti i mestieri che conosco è quello in cui, più di ogni altro, col tempo, a forza di tagliare lamiere, le mani diventano tenaglie, la cui stretta è spesso sottostimata anche dal legittimo proprietario. Chiusa parentesi. Non mi fu facile reggere quella presa, anche solo per quel secondo o due, evitando di piegare le ginocchia contorcendomi per il dolore. Quanto al volto dissimulai per quanto possibile con un sorriso. Ed ecco il colloquio. Lui. Soffri di vertigini? Io. No. Lui. Hai voglia di lavorare? Io. Sì. Lui. Bon. Puoi venire domani mattina alle sette? Fine del colloquio. E un'altra stretta di mano. Stavolta ero preparato ed evitai di farmela stritolare. Industrializzazione. Dentro un nuovo lavoro e una nuova parola, sempre un po' fastidiosa se uno arriva a rendersi conto di quanto detta parola voglia o non voglia lo riguardi, essendo industrializzato un po' tutto ciò che lo circonda. E oltre a circondarlo gli entra anche dentro con le cose industrializzate che mangia, che beve, che legge, che ascolta, che guarda e che utilizza. E di rendersi perciò conto di quanto sia lui stesso un essere quasi totalmente industrializzato, laddove il quasi non è certo. Nessun pericolo. Malgrado ultimamente possa sembrare il contrario, pochissimi, direi quasi nessuno ha davvero voglia di sapere cosa c'è sulla punta della propria forchetta. Tornando alle cucine, ma in fondo siamo in tema, forse nessuno spazio all'interno delle nostre case è tanto industrializzato quanto quello della cucina, dove ogni azione, ogni gesto, si può dire sia programmato, disegnato in anticipo e la disposizione degli elementi detta anche la sequenza degli eventi che vi avranno luogo, in un rapporto di interdipendenza tale da condizionare la reciproca esistenza. E tutto ci sembra naturale, per così dire, come se le cucine fossero sempre state così, dimenticando che la cucina componibile non ha niente di naturale, ma è bensì un'invenzione che è divenuta uno standard, dove tutto è definito secondo misure standard. Altezza da terra, profondità del bancone, altezza del pensile, profondità del pensile, elettrodomestici idem, materiali. Tutto è fottutamente calcolato e industrializzato secondo delle medie generali che personalmente mi hanno sempre creato problemi nel momento in cui mi sono ritrovato a reinterpretare lo spazio, a scopare con lei seduta sul bancone, per esempio, così che pur non essendo un nano, ho tenuto per un periodo in una delle cucine delle mie due stanze con bagno, che per l'autore sono state per lungo tempo uno standard abitativo, un mini sgabello, del tipo di quelli che si usano sul set appunto per alzare gli attori nani. Lei era piuttosto imprevedibile, ma in fondo, se avevo previsto il mini sgabello, prevedibile, non importa. Gran bei ricordi comunque. È tutto per via del passo 32 in un certo senso, cioè i 32 mm che sono il minimo comun denominatore di tutte le forature effettuate su un qualsiasi cazzo di pannello intruciolare delle nostre cucine componibili, a prescindere dalla marca, determinando poi tutto il resto, altezze, larghezze, eccetera. Mini sgabello compreso. Una regola semplice, foro da 0,8 e passo 32. Tenuto conto di questo, il resto viene da sé. Il resto però non è affatto poco. Grazie al capo dell'industrializzazione e alle sue spiegazioni, specie dal momento in cui, per farsi intendere meglio, aveva esploso davanti a me un codice, mostrandomi poi la relativa stampa, avevo iniziato a capire qualcosa di più. Cioè avevo cominciato a entrare dentro quei codici del cazzo che digitavo ogni giorno, a comprenderne la struttura, la divisione in famiglie, sottofamiglie, materie prime, minuteria, tempi e metodi, e come tutto questo avesse un senso che prima mi sfuggiva completamente. Capì molto bene la questione dei tagli di serie e non di serie, che erano sempre fonte di fraintendimenti, errori e conseguenti rimpalli di responsabilità tra noi del commerciale e quelli della produzione. Soprattutto mi accorsi che c'era un particolare taglio a 45 gradi che pur presentandosi con regolarità restava comunque uno speciale. Prendendo per una volta sul serio le prediche sulla qualità totale, iniziai una mia personale raccolta dati che documentasse l'incidenza del taglio speciale in questione sul totale degli speciali, da cui nel giro di un paio di settimane estrapolai i numeri necessari a dimostrare la mia tesi. E infine, quando mi sentii sicuro di me stesso, preparai un piccolo fascicolo riguardante gli speciali in generale e la possibilità di trasformare quel particolare taglio speciale, vista la sua ricorrenza, in un taglio di serie, cosa che avrebbe migliorato la qualità del processo e fatto risparmiare all'azienda tempo e denaro. E io, proprio io, entusiasta come uno scolaretto che mostra la maestra e la sua ricerca, presentai il tutto al direttore delle vendite durante una delle consuete riunioni degli errori. Che dire? Mi ero lasciato un po' prendere, in effetti. A volte, quando un lavoro non piace, cercare di farlo nel modo migliore è già una distrazione. Con grande sorpresa generale, il direttore accolse la mia iniziativa con interesse, dicendo che l'avrebbe valutata attentamente con la produzione e, in effetti, alla riunione successiva, con sorpresa ancora più grande, soprattutto dei due capi ufficio, annunciò che la proposta era stata ritenuta valida e da lì in avanti quel particolare taglio sarebbe stato contrassegnato da un codice di serie. Grande soddisfazione di chi scrive e grande anche il credito guadagnato. Forse, anche se resto un po' distratto, mi muovo dalla mia sedia troppo spesso, ma per me mai abbastanza, non sono da buttare via. Forse, mi disse di lì a poco il mio capo ufficio, è solo che sei troppo tecnico, troppo poco commerciale per star bene in questo ufficio e forse, disse anche, per l'idea che si era fatto di me, sarei stato più adatto alla produzione. E insomma, sbottò a un certo punto, un po' ridendo, un po' no, si vede che ti rompi i coglioni, cazzo. Perché le cose le sai, non è che sbagli perché non le sai, ma perché ti rompi i coglioni, disse. E io dopo devo romperti lì di nuovo, capisci? D'altra parte, continuò, qui il lavoro è questo, tot, ordini, arrivano, tot, devi metterne dentro. Perciò, mi disse, siccome avevo sentito dal capo industrializzazione che uno dei suoi non si trovava bene dove era, aveva proposto uno scambio. Certo, disse, è anche un rischio, perché mi tiro in casa uno che non conosco, a parte sapere che non sta bene dov'è, il che non è mai un buon segno. Ma d'altra parte, anche tu non stai bene dove sei. Ma non è perché non hai voglia di lavorare, ma chissà che non sia lo stesso anche per l'altro, e che alla fine restiamo tutti felici e contenti. Dunque, come la vedevo? Et voilà. Ecco che tutto, come per caso, va come deve andare, lasciandoci sempre nel dubbio se sia davvero accaduto per caso. Mobilità. Ero, come si dice, in mobilità. Vivevo del sussidio statale, della cosiddetta indennità di mobilità. E non stavo affatto cercando un altro lavoro, anzi, volevo approfittare fino in fondo di questo cosiddetto periodo di mobilità che sarebbe durato 12 mesi, trascorsi i quali, allora sì, avrei dovuto darmi da fare per trovare un lavoro. Ma ora no, pensavo. Ora non mi do affatto da fare. Ora dispongo del mio tempo nella sua totalità, dalla mattina alla sera. Posso fare quello che voglio. Anche niente. Anche starmene seduto tutto il pomeriggio su una panchina al parco Querini senza fare assolutamente nulla. Che cosa inconcepibile in questa città, in questa provincia, in questa regione, in questo nebbioso e malsano nord-est, di questa ugualmente malsana, anche se non totalmente nebbiosa, nazione. Comunque impensabile in questa città, dove tutti lavorano in modo forsennato dall'alba al tramonto, molto spesso da prima dell'alba fino a dopo il tramonto e addirittura alla notte, il sabato, la domenica e le altre feste comandate. Il sabato e la domenica soprattutto sembrano essere giorni che spaventano, giorni spaventosi, specialmente il sabato che ha davanti a sé la domenica, giorni spaventosamente vuoti. Ed è un vuoto che chiede a gran voce di essere riempito. Così, pensavo camminando, tutti, il sabato e la domenica, cominciando addirittura il venerdì sera, si danno da fare per riempire il vuoto del sabato e della domenica che comincia il venerdì sera. Non dobbiamo farci trarre l'inganno dal fatto che durante la settimana tutti aspettino o dicano di aspettare, essendone effettivamente convinti, il sabato e la domenica come se fossero i giorni migliori della settimana. Il sabato e la domenica, ma soprattutto il sabato a partire dal venerdì sera, sono in realtà i giorni peggiori. In assoluto e senza ombra di dubbio i peggiori giorni della settimana, giorni micidiali e pericolosi e lunghissimi nella loro micidiale pericolosità. Durante i cosiddetti fine settimana, i famigerati weekend, si è costretti a darsi da fare per riempire il vuoto e allontanare il conseguente senso di vuoto lasciato dalla sospensione dell'usuale attività lavorativa. Sospensione che inevitabilmente ci lascia soli con noi stessi e il senso di vuoto. Conseguenza del vuoto. Eventualmente soli con noi stessi e i nostri cari, pensavo. Costringendoci a inventare un lavoro o comunque un'occupazione che ci distolga da noi stessi, dai nostri cari e dal vuoto e dal conseguente senso di vuoto. La forse nata attività lavorativa e non lavorativa, domestica ed extra domestica del sabato e della domenica a partire dal venerdì sera, pensavo camminando, nasce dal vuoto spaventoso in cui ci piomba la sospensione del lavoro che normalmente e quotidianamente ci distoglie da noi stessi e eventualmente dai nostri cari. Dunque mi verrebbe da scrivere, penso, dal vuoto spaventoso di noi stessi e dei nostri cari, eventualmente. Durante i fini di settimana aumentano i litigi, le risse, i suicidi, gli omicidi, gli incendi mortali, gli incidenti non mortali e quant'altro. Questo è un fatto, penso. Su questo non si può proprio discutere. Non a caso si parla di stragi del sabato sera, un modo di dire riduttivo che si potrebbe a ragione estendere anche alla domenica per tutta la giornata e al resto del sabato partendo dal venerdì sera. Si dovrebbe parlare di stragi del fine settimana, ecatombi del fine settimana, apocalissi del fine settimana. E tutto a causa del vuoto, pensavo. Tutto questo lavoro, se non lavoro occupazione, comunque attività, contro il vuoto. E a giudicare dal livello di questa attività, penso, il vuoto che ci circonda in questo nord-est Veneto e Vicentino in particolare. Deve essere un vuoto davvero spaventoso, un vuoto raccapricciante. Se non il vuoto, senz'altro, la percezione del vuoto. Una vera maledizione sotto forma di senso del vuoto, ossia intollerabile coscienza del vuoto e dunque paura del vuoto e orrore del vuoto e spavento del vuoto. Paura, orrore e spavento che ci inducono a rivolgere tutte le nostre forze contro la paura, l'orrore e lo spavento del vuoto. In definitiva, contro il vuoto. L'unica arma per combatterlo, essendo un'attività di riempimento materiale e immateriale della natura del paesaggio, natura e paesaggio esterni e interni, esternamente in quanto fraintendimento, internamente in quanto reale percezione di un vuoto essenzialmente interno. Ecco perché la mia scelta mi espone a un pericolo mortale. Solo in mobilità, pensavo. Il che significa in un certo senso che le mie giornate sono un susseguirsi di sabati. Un sabato che ha davanti un sabato, che ha davanti un sabato, che ha davanti un sabato senza soluzione di continuità. Settimane composte di solo sabato, mesi composti di solo sabato. Un lunghissimo, pericolosissimo letale sabato periodico della lunghezza di un anno. 365 sabati, uno in fila all'altro, uno dopo l'altro, uno prima dell'altro, uno di fianco all'altro, senza fare assolutamente nulla di produttivo. Niente che produca denaro. Sono escluso dal cosiddetto ciclo produttivo. Escluso dall'altrettanto cosiddetto mondo del lavoro. E siccome sembra che il mondo del lavoro sia l'unico mondo legittimo, comunque l'unico che dia legittimità, la mia esistenza è un'esistenza illegittima, perché non legittimata. Ma anche questo è vero solo in parte, pensavo. Mi sto illudendo. Non sono affatto fuori del mondo, ma in un altro mondo. Sono stato cacciato dal cosiddetto mondo del lavoro e sono così automaticamente entrato nel mondo della disoccupazione. Anzi, per essere esatti, e io ci tengo a essere esatto, sono stato cacciato a forza nel limbo della mobilità. Chi ha inventato questa definizione non doveva essere affatto stupido, pensavo, camminando. Chi ha coniato questa espressione sapeva esattamente di che cosa stava parlando. Mobilità. Un periodo di mobilità. Un anno di libertà da pagare a un prezzo salatissimo. La fine della stabilità è al tempo stesso una condanna all'immobilità. Stabilità relativa, pensavo. Immobilità relativa. Immobilità altrettanto relativa, questo è chiaro. Solo con il mio periodo di mobilità, malato di immobilità. Ho la mobilità, pensavo, camminando. Non sono in mobilità, ma ho la mobilità. Eppure ho la cassa integrazione, non sono in cassa integrazione. Del resto, pensavo, non si dice sono in influenza, ma ho l'influenza. Non sono in un periodo di raffreddore, ma ho il raffreddore, eccetera. E poi la gente reagisce proprio come se tu fossi malato. Sono in mobilità, dici. E loro subito ti guardano diversamente, i loro occhi cambiano, le loro voci assumono un tono più dolce, un tono consolatorio. Coraggio, dicono. Non ti abbattere, non ti scoraggiare, passerai un periodo, qualcosa troverai, basta adattarsi, non farti prendere dallo sconforto. Devi reagire, prendila come un periodo di ferie forzate, basta adattarsi. Mi informo. Magari se sento qualcosa, hai provato da... Ah, ho sentito che cercano quel... eccetera, eccetera. La mobilità è a tutti gli effetti una malattia, penso. Una malattia che può diventare una malattia mortale, così come anche la cassa integrazione può diventare una malattia mortale. Ed è del tutto naturale che la gente tratti un malato di mobilità o di cassa integrazione, allo stesso modo in cui tratta un malato di epatite, di tubercolosi. Malattie che possono essere o non essere mortali, ma che sono comunque malattie pericolose e in qualche modo contagiose. La mobilità non è affatto contagiosa, pensavo. Almeno non attraverso una stretta di mano o un bacio. Ma è come se lo fosse. E comunque tutti si comportano come se lo fosse. E lo puoi vedere chiaramente dai loro occhi, lo puoi percepire chiaramente dal tono delle voci, in mezzo a quello che dicono. C'è timore in quegli sguardi e c'è sollievo. C'è un po' di soddisfazione in quelle voci, insieme alla cosiddetta solidarietà. Insomma, sei tu che sei malato. Io non sono malato. Sei tu che devi morire. Io non devo morire. Non subito. non adesso. E comunque io non lo so ancora. E finché non lo so. Nella malattia altrui si esplicita la consapevolezza del nostro essere sani. Nella disgrazia altrui la nostra fortuna. Nella morte altrui la soddisfazione di essere vivi. Niente ci fa apprezzare di più la vita come partecipare a un funerale, pensavo, camminando. Ora mi è chiaro perché mio padre non manca mai a nessun funerale, almeno da quando è andato in pensione. Da un mondo meraviglioso. Ero Fred Astaire e dicevo alla mia ragazza, anch'io ti amo e ti amerò sempre. Le dicevo mentre la facevo ballare come nessuno l'aveva mai fatta ballare. È davvero un mondo meraviglioso, le dicevo. È il mondo più meraviglioso del mondo. Quando sono con te, le dicevo ballando alla musica di quella meravigliosa orchestra. Vedo davvero gli alberi blu e anche i boccioli rossi li vedo blu. Per me e per te. E penso che mondo meraviglioso è questo. E il suo vestito di chiffon disegnava nell'aria stupendi arabeschi, mentre la conducevo con grazia decisa in una giravolta dopo l'altra. La piazza era un'immensa pista da ballo tutta per noi che volteggiavamo leggeri come l'aria. Non ti stupire, bambina, le dissi. Sono nato per ballare. Tutto questo mi immaginai e altro ancora. E intanto pensavo che per quanto male stesse suonando, per quanto impegno ti mettesse la banda di Povolaro, non aveva il potere di sopprimere quel tema meraviglioso. Che quel tema avrebbe resistito per sempre a qualunque attacco. Pensavo, mentre immaginavo di cantare e di ballare, che anche dei musicisti peggiori di quelli, seppure esistessero, non ce la farebbero a distruggere quel tema. Che niente e nessuno l'avrebbe mai distrutto. Perché quel tema è meraviglioso e parla di un mondo altrettanto meraviglioso. Che malgrado tutto e tutti è e resterà sempre un mondo meraviglioso. Sì, pensavo, il mondo è davvero meraviglioso. Siamo noi che suoniamo male. Abbiamo sempre suonato male e suoniamo sempre peggio. Più passa il tempo, peggio suoniamo. E senza rendercene conto facciamo delle nostre vite degli spaventosi a soli fuori tempo. Stonati, abboracciati, ognuno per conto suo. Credendo di suonare insieme agli altri, pensavo, in realtà suoniamo sempre e solo da soli. Uno da una parte e uno dall'altra. Ognuno il suo strumento. Crediamo di parlarci e non ci parliamo. Facciamo a pezzi il meraviglioso tema che abbiamo a disposizione in tanti piccoli insignificanti, pretestuosi, presuntuosi pezzetti. Creiamo una gigantesca cacofonia, distonia, alla quale non si può restare e pensare, prestare il proprio orecchio senza rischiare di impazzire. È tutto perché nessuno ascolta nessuno. Tutti suonano e nessuno ascolta. Che cosa l'altro sta suonando? Pensavo ballando. E se uno suona forte, l'altro suona ancora più forte. Se uno si lancia in un acuto, l'altro cerca un acuto ancora più acuto. Se uno va in basso, l'altro vuole andare ancora più in basso. Non importa quanto in alto, quanto in basso, ma più in alto, più in basso, più veloce, del più veloce, più lento del più lento, più bello, più brutto, più grande, più piccolo, ma di più, di più, sempre di più. Eppure, pensavo, se uno si ferma un attimo a pensare a quel tema da cui era partito, se uno smette per un attimo il suo assolo e ascolta, cercando di ritrovare quelle note meravigliose, se tutti si fermassero per un attimo, se dessero un'occhiata allo spartito e si rendessero conto, la musica era finita. Cominciai a battere forte le mani. Bravi! Urlai. Bravi! E battevo le mani con tutta la forza e anche i piedi. Perché ero davvero entusiasta e volevo ringraziarli, quei musicisti meravigliosi. Ma qualcosa non andava. Non sentivo altri applausi. Non sentivo urla, né fischi, niente. Smisi di battere le mani e di agitarmi. Apri un occhio, apri l'altro occhio. Come sono arrivato qui?